Professoressa, questo è una sorta di riscatto dopo quello che è stato detto di recente anche sull'università. È stato scritto, commentato più volte. Sì, è anche corretto. Corretto, certo. È anche corretto, perché prima di dare certi dati bisogna essere sicuri della realtà dei dati che vengono. Della veridicità. Della veridicità, cioè non si può, anche lanciando delle preoccupazioni, questo non è… È un Ateneo sano, un Ateneo che può… Non solo un Ateneo sano, ma un Ateneo molto vivo e molto apprezzato in campo internazionale. Noi rispondiamo a tutti i criteri, tutti i canoni previsti dai ranking internazionali più accreditati. Infatti abbiamo avuto degli ottimi risultati in diversi ranking e soprattutto nel by subject, cioè nel ranking sulle materie, sui campi di studio e di ricerca. Questo dovrebbe confortare gli studenti e giovani e dire che quest'ambiente è l'ambiente dove crescere in maniera multidisciplinare, in maniera continua e soprattutto in maniera aperta al territorio e ai problemi della società. Allora, quali sono stati i campi in cui il ranking internazionale vi ha dato più soddisfazione? Che vi ha messo, insomma, l'attenzione? Diciamo, possiamo puntare su tre settori. Se andiamo sui campi di studio e di ricerca, possiamo prendere ad esempio la fisica dell'atmosfera, cioè il climate change, il problema attuale, i cambiamenti climatici, dove risultiamo in un'ottima posizione internazionale e siamo secondi in Italia. Un'altra cosa che ci conforta molto è che in due ranking diversi, che quindi usano indicatori e sistemi di misura anche diversi, siamo risultati decimi a livello mondiale per la qualità dell'educazione e della formazione. Questo appunto è un risultato particolarmente incoraggiante, vuol dire che noi facciamo le cose che dobbiamo fare nel modo giusto. quello che ci teniamo anche a dire è che noi non inseguiamo i ranking, cioè non cambiamo le nostre attività o ci mettiamo al tavolino per vedere come migliorare quel risultato o un altro. No, noi consideriamo i ranking, che sono tanti, sono diversi, usano diversi indicatori, li utilizziamo come uno strumento per migliorarci e anche per dare all'esterno l'informazione più giusta, perché l'informazione corroborata da dati scientifici e dati statistici penso che sia la risposta più precisa da dare ad una società. Quindi, mi posso permettere di usare il termine, quindi li guardiamo con umiltà per cercare di migliorarci. Non c'è mai un traguardo. Un'università che lavora nel campo della formazione, ricerca e impegno sociale, terza missione, innovazione, non si può fermare, non può dire sono arrivato. Come nessun individuo può dire mai sono arrivato, bisogna sempre migliorare. Tutto questo anche per rivedere eventualmente anche l'offerta formativa con questi indicatori, professoresse? Certo, rivedere, migliorare, aggiornare e rendere sempre più competitiva a livello nazionale e internazionale. C'è un grande discorso a livello globale su una revisione dei curricula in termini di multidisciplinarità e quindi questo è il futuro dell'università, fornire agli studenti un ampio spettro di conoscenze precise e molto puntuali sul campo specifico ma allargate a tante altre competenze che sono necessarie per il mondo del lavoro di oggi e di domani.